Paura e panico sulla nave della Siremar in viaggio tra Lampedusa e Porto Empedocle, feriti e incidenti a bordo. Burrasca e traversata burrascosa, tempesta e navigazione tempestosa. Pensate che a bordo ha viaggiato anche una truppe cinematografica, impegnata in un film documentario a Lampedusa e Linosa. E così alcuni, allucinati dalle ondate, hanno pensato che tutto fosse stato architettato come scenografia. E invece no, realtà, movimentata e bagnata. Il mare arrabbiatissimo e furente, il vento violento. E nonostante ciò, il comandante, che forse da piccolo avrà letto troppi romanzi di Giulio Verne, ha ordinato la partenza da Lampedusa. E così, sulla nave traghetto della Siremar, la inossidabile Paolo Veronese si è scatenata la Movida. Tutti in pista, una cinquantina di passeggeri sballottati sui quattro lati cardinali, come sulle Titanic o il pianista sull'oceano. Alcuni hanno subito delle ferite, altri avrebbero cercato e avrebbero trovato il comandante presunto avventuriero. E lo avrebbero rimproverato per la sua presunta imprudenza da gio e temerario. Poi, nel frattempo, giù, nella stiva, alcuni dei mezzi pesanti si sono ribaltati. E anche un'autocisterna, fortunatamente carica di acqua, perché il carburante lo ha scaricato a Lampedusa prima della partenza. Poi, a notte fonda, la costa agrigentina è apparsa quasi come un emmiraggio, come l'America alle tre caravelle di Colombo. Le ancore, la prodo, salvi, il piede finalmente a terra, anche se alcuni si sono coricati sulle barelle delle ambulanze, verso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Enrico Montalbano di Agrigento, vi sentite quasi una sorta di reduce. Avete vissuto attimi di panico e di paura a bordo della nave della Siremar? Assolutamente sì, la nave è partita da Linosa, noi l'abbiamo presa da Linosa, è la nave che parte da Lampedusa. Noi siamo saliti a Linosa, dico noi, perché io in questo momento mi sto occupando della casting comparse del film di Emanuele Clerese, che si gira proprio a Linosa, e quindi riportavo dall'isola verso Agrigento una ventina di comparse africane. Bene, già da subito abbiamo notato che il mare era in condizioni che non ci tranquillizzavano. Dopo una mezz'ora, siamo partiti dall'isola, abbiamo cominciato a sentire i primi malesseri. Dopo un'ora la nave ha cominciato a veramente essere, diciamo, sbattuta dalle onde da sinistra a destra. Sono cominciate a volare le prime sedie, sono cominciate a partire le prime valigie che scivolavano lungo i corridoi delle navi, e poi di seguito, nelle ore, quasi, diciamo, incessantemente, le persone cadevano. Molte di queste persone si sono fatte male, molte di queste persone sono state poi ricoverate all'arrivo a Porta Empedocle all'ospedale San Giovanni di Dio. Le ho seguite naturalmente io, perché la maggior parte delle persone erano appunto quelle del mio gruppo, dei ragazzi africani. Io sono stato uno anche delle vittime, perché tanti di noi sono stati malissimo, hanno rimesso la maggior parte delle persone, i bambini piangevano, le mamme piangevano, i camion nella pancia della nave si sono rivoltati, con danni, mi dicevano, i camionisti enormi. Abbiamo chiesto del comandante, che finalmente si è fatto vivo, proprio quasi all'ingresso del porto di Porta Empedocle, e alla domanda come mai la nave fosse partita in queste condizioni di tempo così allucinanti, lui mi ha detto che non ero io la persona a cui dovevo rispondere. Io mi chiedo come mai un comandante, che dovrebbe avere un'esperienza così grande, sia potuto partire in condizioni meteo-marittime così allucinanti. Io credo che, non sono un tecnico, ma credo che siamo partiti con Mare Forza 9. Io credo che siamo sulla strada per denunciare sia il comandante della nave che la stessa compagnia Siremar.